Buonasera e benvenuti a Roma nella sala dell'estrazione del Super Enalotto. Chi possiede oggi, giovedì 13 febbraio, la ricevuta della giocata del Super Enalotto può vincere 10.875.846 euro. Sono già iniziate le operazioni relative al concorso numero 19. Le 90 sfere numerate per la sestina vincente del numero Jolly sono state caricate. Ed ora con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo il via all'estrazione di questa sera. Le sfere sono scese nell'urna elettronica e inizia il loro mescolamento automatico. Andiamo a scoprire insieme il primo numero della sestina vincente. Il primo numero estratto è il numero 33. Proseguiamo con il secondo numero di questa sera. Il secondo numero estratto è il numero 75. Dal terzo numero si inizia a vincere. Il terzo numero estratto è il numero 9. Aspettiamo il quarto numero che ci porta verso premi importanti. Il quarto numero estratto è il numero 11. Quinto e penultimo numero. Il quinto numero estratto è il numero 17. Con il sesto numero si conclude la sestina vincente. Il sesto numero estratto è il numero 20. Abbiamo ora i sei numeri che possono assegnare il jackpot. Passiamo quindi all'estrazione del numero Jolly per l'attribuzione dei premi di seconda categoria. Il numero Jolly di questa sera è il numero 32. E controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione ed il numero Jolly. 33, 75, 9, 11, 17, 20. Numero Jolly 32. Ed ora passiamo al numero superstar. È il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente dal terminale di gioco. Già al momento della convalida della giocata può far vincere premi istantanei da 5 euro fino a 10.000 euro. La sua estrazione avverrà grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90. E procediamo con l'ultima estrazione di questa sera. Vi ricordo che il numero superstar premia anche lo 0, l'1 e il 2 e moltiplica 25 volte le vincite del 5 e 100 volte quelle del 4 e del 3. E il numero superstar di questa sera è il numero 46. E ricontrolliamo insieme tutti i numeri del concorso numero 19 del superenalotto con la sestina vincente in ordine crescente. 9, 11, 17, 20, 33, 75, numero jolly 32, numero superstar 46. E l'estrazione di oggi, giovedì 13 febbraio, è terminata. Tra pochi minuti scopriremo insieme se il jackpot di oltre 10 milioni di euro è stato assegnato ad uno più vincitori. Io vi aspetto sempre qui su Sisa TV, la rete in diretta con la fortuna. Ben ritrovati qui su Sisa TV, la rete in diretta con la fortuna. Poco fa abbiamo seguito l'estrazione dei numeri vincenti del concorso numero 19, che vi ricordo ha messo in palio il jackpot di oltre 10 milioni di euro. E anche questa sera il superenalotto ha per voi numerosissimi premi. Abbiamo infatti 91.699 vincite. Ma è il momento di scoprire insieme se questa sera ci sono uno più vincitori del jackpot. E il computer ci comunica che non è stato realizzato il 6 né il 5 più 1. I 5 sono 4 e vincono 58.744 euro ciascuno. I 4 sono 1.657 e vincono 143 euro ciascuno. I 3 sono 47.356 e vincono 9 euro ciascuno. Ed ora è il momento di superstar. Il numero stella che moltiplica le vincite del 5, del 4 e del 3 ne premia anche con 0, 1 e 2 punti. Ed ora vediamo nel dettaglio tutte le quote. Nessun 5 stella. I 4 stella sono 7 e vincono 14.352 euro ciascuno. I 3 stella sono 219 e vincono 998 euro ciascuno. 100 euro vanno ai 2.436 2 stella. 10 euro vanno ai 13.639 1 stella. 5 euro vanno ai 26.381 0 stella. Ed ora andiamo insieme a scoprire il jackpot del prossimo concorso. 11.400.000 euro. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi. Il Super in allotto vi dà appuntamento a sabato 15 febbraio sempre qui su Sisa TV. La rete in diretta con la fortuna. Il Super in allotto vi dà appuntamento a sabato 15 febbraio sempre qui su Sisa TV. Il Super in allotto vi dà appuntamento a sabato 15 febbraio sempre qui su Sisa TV.